Sono un Consiglio regionale che è un genocciocca, in dato 30 agosto 2016, ha formalizzato le dimissioni che aveva annunciato nel corso dell'ultima scuola del Consiglio regionale, per la carica del Consiglio regionale e ha riduttato per la carica di Parlamento europeo. Il corso dell'articolo 12,4 del Parlamento generale del Consiglio dispone che le dimissioni motivate dalla volontà di votare per una carica incompatibile con la carica di Consiglio regionale hanno effetto dalla data di presentazione, non richiedono procedimenti di votazione e sono semplicemente comunicati dal Presidente dell'Assemblea, all'Assemblea della prima seduta utile, la quale ne prende atto senza procedere alla votazione e provenendo alla surrogazione del seggio preso vacante. Pertanto, visto l'articolo 1,37 della legge 17-2012 sulla norma di prevenzione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, informo che il seggio di Consiglio regionale di venuto vacante viene attribuito alla signora Silvia Piani e risulta essere la prima candidata del Presidente del Dottone a vista provinciale Lega Nord della circolazione provinciale di Pavia, nella quale la statuola è la circolazione del missionario Gioca, come da verbale, il sucio centrale circoscrizione del presso il Tribunale di Pavia per la direzione di Pavia. grazie a tutti. Grazie, benvenuta. Ti auguro di molto. Ti auguri vedo anche che c'erano altri motivi Grazie a tutti